Violetta, che musica sei? Ciao, sono Lodovica Comello e interpreto Francesca nella serie Disney Violetta. Anche tu come Francesca e Violetta ami la musica? Allora scopri che musica sei e scegli la tua canzone. Sei una persona romantica, ti emozioni ogni volta che Violetta e Tomas si incontrano e vedi la vita tutta a cuori? Hai un animo sensibile, sei dolce ma indecisa e a volte temporeggi perché non sai scegliere. Se fossi uno strumento musicale, faresti un pianoforte e la tua musica è Te Creo. Dopo averlo incontrato per la prima volta, Violetta pensa e ripensa a Tomas e spera di incontrarlo ancora. Beh, posso accompagnarti a casa, mi sembri un po' disorientata. Scordatelo. Non posso dimenticarmi di te. Non sa quale complicato intreccio si creerà con il bel Tomas. No se si hago bien, no se si hago mal, no se si decirlo, no se si callar. No se que me pasa, no se si es normal, si a todas las chicas les pasa algo igual. Ahora sé que la tierra es el cielo, te quiero, te quiero, te quiero. Que me cambias con tu sugo, te quiero, te quiero. E' la prima volta che Violetta si innamora, che prova queste sensazioni. Però non sa bene se tenerle segrete o raccontarle a qualcuno. Ieri ho conosciuto un ragazzo. Probabilmente non lo rivedrò mai più. Ogni volta che penso a lui. Hai mai sentito le farfalline nello stomaco pensando ad una persona in particolare? Aha! Questa canzone ti rappresenta. Imparala e canta la modo tuo. Quando cantate il pezzo, ricordatevi il consiglio che dà Angie durante le lezioni allo Studio 21. E' un buon esercizio pensare a qualcuno che per voi è speciale e concentrarsi su questo. Chiudete gli occhi, pensate a questa persona e usate questa energia per cantare. Anche se la canzone parla di un momento di indecisione, si deciso nell'interpretazione del pezzo. Non esitare. Potrebbe essere utile stare in piedi, così la voce viene fuori meglio. E in ogni caso devi rimanere rilassato affinché la voce risulti naturale. Rilassati e canta. Segui la programmazione per scegliere la tua canzone. E allena la voce, perché prossimamente potrai esprimere chi sei con Violetta. Che musica sei? Solo a Disney Channel. Che musica sei?